no no ma dove davvero la devo vedere tutti e piccolate ragazzi che ti abbassi su serio la gavere va a bocconi va bene non si vede tu da solo e noi giudiamo così ti portiamo qualche arma non c'è problema ragazzi sti facendo anche il video facciamo vedere ragazzi il sito l'ultima fase giusto raga è l'ultimo so che è la fase 4 non so se è l'ultimo a meno che non ci sia una tutta sfumazione ok dove c'è questa specie di sì è lì è Luis wow vediamo visita luoghi differa wow troppo figo bene ragazzi se il video vi è servito lasciate un like e iscriviti al canale un po' un po' un po'